La legge del più forte nonostante le numerose campagne per bloccare il fenomeno del bullismo continua a lasciarci con la bocca amara. Stando a logiche perverse il più debole deve soccombere regole sicuramente da trogloditi, da gente senza anima. È il senso della prepotenza, della supremazia muscolare che prevale sulle regole del vivere civile. In fondo la prepotenza è sempre esistita, ma ai nostri giorni più che mai i modelli che escono dalle fiction televisive piuttosto che dal grande schermo diventano motivo di emulazione. L'aggressività di certi giovani ha sicuramente origine da patologie psichiche difficili da mettere a fuoco, soprattutto in famiglia. Il bull esprime tutto il suo essere diverso già in tenera età e il fenomeno è continuamente studiato. Già alla scuola elementare si mettono in vista scegliendo come loro vittime i compagni più deboli. Partono dal classico spintone per arrivare poi alla violenza fisica vera e propria. In molti si interrogano e cercano rimedi. Ultima in ordine di tempo la presa di posizione dell'amministrazione comunale di Novi Ligure che ha deciso di inviare a scuola carabinieri in congedo, volontari che dai corridoi del plesso scolastico e sul bus controllano, pronti a prendere per le orecchie, i bulli disseminati nelle diverse classi. Esperimento riuscito. La violenza tra i banchi sembra finita, anche se i vigilanti se raccomandano. Non abbassate la guardia.